Non è stata una scelta deliberata quella di ambientare i film nel quartiere di Tin Shun Hai. All'epoca, all'estate del 2004, era un argomento molto discusso perché c'era stato questo omicidio, una famiglia era stata massacrata e quindi ci siamo recati sul posto per fare la ricerca. Ancora non sapevamo se ne avremmo fatto un documentario o un vero e proprio film. Siamo rimasti affascinati dal quartiere, ci aspettavamo un'immagine squallida perché appunto questo quartiere ha la fama di essere molto povero. Invece la scena che ci si è presentata davanti agli occhi sembrava uscita da un videogame, un posto molto colorato, molto allegro, il clima molto familiare, il posto in cui vorresti crescere la tua famiglia. Siamo rimaste molto intrigati e abbiamo deciso di farne un film. Penso che sia importante per un regista di raccontare la propria storia, di rappresentare il proprio punto di vista nel modo migliore possibile. La società del giorno d'oggi, sia a Hong Kong che anche nel resto del mondo, trovo che sia troppo repressiva, che non incoraggia abbastanza l'espressione delle differenze di opinione. Agli stessi registi è chiesto di produrre film in linea con l'opinione pubblica, con l'opinione comune. Anche la questione di dover essere politicamente corretti è un invito ad avere tutti la stessa opinione ed esprimere tutti lo stesso punto di vista. Come per esempio il discorso dell'ambiente. Se non esprimi l'opinione in linea con l'opinione pubblica sei fuori dal business. Io trovo che invece nei materi dell'arte, e quindi anche del fare film, esprimere il proprio punto di vista, che in linea o contrario a quello dell'opinione pubblica sia fondamentale. I soldi non sono il problema. Creare un film a grande budget non è un tabù, ma non bisogna neanche pensare che sia l'unico modo di andare avanti. Bisogna considerare che produrre un film a grande budget richiede molti anni per ottenere i permessi necessari. E se fosse l'unica scelta disponibile, la maggior parte dei registi sarebbero disoccupati. Inoltre i film a grande budget sono basati sul pubblico. E una sceneggiatura per un film a grande budget deve passare attraverso molte fasi di stesura nelle mani di molte diverse persone prima di diventare appetibile. E io non ho pazienza per questo. Si può benissimo girare un film a basso budget e lo stesso arrivare al cinema. E in ogni caso non ha importanza se sia un film a basso budget o un film a grande budget. Sarà sempre un film hongkonghese perché è realizzato da un regista hongkonghese. Grazie. 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 Grazie.